Oggi parliamo di un altro cantante di questo X Factor 2020 che è Santi, che gareggia con la categoria Underwomini di Emma. Santi è il nome d'arte di Filippo Santi, è uno studente a 18 anni e vive a Casalecchio di Reno in provincia di Bologna. La passione per la musica l'hanno trasmessa suo padre e suo fratello maggiore che è diplomato in percussioni al conservatorio. Fin da piccolo lui ha studiato musica e ha imparato a suonare tanti strumenti come pianoforte, sassofono e la chitarra. Lui dice che il suo obiettivo è quello di portare la musica a più persone possibili. Alle audizioni aveva portato una canzone degli stadio che è il grande figlio di... puntini puntini diciamo. Mica trovava il suo timbro di voce troppo finto ma era riuscito ugualmente a passare per volere degli altri giudici. Ai bootcamp al pianoforte ha suonato la cover Gaetano di Calcutta e questa performance era piaciuta tantissimo ad Emma. Alle last call invece Filippo ha presentato un suo inedito chiamato 92B che è il numero dell'autobus che prende per andare a scuola. In questa canzone lui parla di questi tragitti in bus dove c'è questa ragazza che vede che però non sale mai sopra quest'autobus. Invece la prima live di X-Factor ha portato il suo inedito Bonsai che è un brano che parla dell'importanza di credere in se stessi perché ognuno di noi è unico e speciale. Mica ha apprezzato molto la sincerità del brano ma Manuel Agnelli ha detto che lo trova ancora molto acerbo rispetto agli altri concorrenti che trova già più preparati e più forti. Emma invece è molto molto soddisfatta del suo concorrente. Va bene adesso alle prossime live vedremo questo cantautore bolognese cosa ci canterà. Ciao da svidio!